Sante Spigarelli, Presidente di Roma 2017 World Archery Finals, una tradizione che si conferma, Roma come capitale mondiale del tiro con l'arco dopo la Youth Cup, un altro evento internazionale, questo di livello davvero straordinario. Sì, ancora prima c'è stata la finale dei campionati italiani del cinquantenale che ha ospitato lo Stadio dei Magni, poi appunto la finale della World Cup giovanile e ora questo grande finale, questo grande evento che è sicuramente il secondo evento dopo le Olimpiadi come importanza internazionale. Da grande atleta prima e dirigente poi c'è credo legittimo orgoglio nel vedere Roma a questo livello organizzativo nel tiro con l'arco. Sicuramente, diciamo nel 1972 quando l'arco era tornato alle Olimpiadi un'organizzazione di questo tipo era impensabile. Si riesce a coniugare la tradizione con grande innovazione, è un tiro con l'arco spettacolare visto così? Sì, sicuramente i cambiamenti che sono stati fatti, sono stati fatti tutti prevalentemente a favore dello spettacolo con grande risultato mediatico e di visibilità. In attesa dei risultati sul campo, dove l'Italia porta anche giovani interessanti e cerca anche qualche conferma importante, dall'aspetto e dal lato organizzativo sono già arrivati i complimenti dall'avordarceli a livello internazionale? Sì, direi che tutto quello che ho sentito è tutto un applauso all'organizzazione e io devo ringraziare tutto il comitato organizzatore che sta da fianco a me con un lavoro straordinario.